Valdi si firma, salta Buschiazzo, ancora Valdi, la mette in mezzo, Garofalo, un altro miracolo di Avella, miracolo di Avella. E poi c'è un ulteriore incredibile, quello che è successo. Questa è un'occasione, grazie, al tocco di mano, per Sarau, per accorciare il tocco, batte Sarau contro Avella e riesce a pararla subito, l'estremo difensore. Un gol di ruolo, un ruolo a Scacabarozzi, le vinte per al tocco, il cross dentro, verso Romero, di testa Avella, posizione regolare, da parte di Romero, si propone il vantaggio, il valore per qui, guarda il cross, metta ora il secondo paro, c'è il di gol, il miracolo di Avella, il patale non è entrato, dice l'arbitro, sempre ceca. Il gestito in mezzo per a Vitale, dei testi in mezzo, un prezziso, Vitale, il lettore, che è tagliato controlla! Avella! E se ancora il finito, un po' già non passa dal raddoppio. che ha guadagnato il penalti cara contro Avella che respisce la confusione e l'attacchiante spizzo scatto di Marotta il pallone per cui si inserisce il 10 Marotta, filo in fondo con destro è il miracolo Diabella è fuori gioco però